35 controlli effettuati su tutta la filiera del pescato, pescherecci grossisti fino alle pescherie al dettaglio ricadenti nell'area portuale, di termoli diverse, le regolarità riscontrate, 4 pescherecci nelle operazioni di sbarco del pesce non hanno osservato le linee guida ministeriali, i punti di sbarco non erano stati né lavati né puliti e le cassette del pescato erano poggiate direttamente sulla pavimentazione della banchina, il trasbordo di prodotti ittici inoltre da un automezzo all'altro non era stato autorizzato, le verifiche presso i mercati rionali di termoli hanno evidenziato invece per 13 commercianti al dettaglio carenze igienico-sanitari, pareti con intonaco in cattive condizioni, banchi espositori deteriorati e lo scarso utilizzo di ghiaccio per consentire la catena del freddo, inoltre è stata riscontrata la sistematica in osservanza della direttiva del ministero della salute circa la netta separazione da attuare all'interno dei banchi di vendita tra i prodotti freschi e quelli decongelati separazione necessaria per evitare errori di ricongelazione del prodotto decongelato che potrebbero comportare pericoli di natura microbiologica. Tutte le irregolarità riscontrate sono state segnalate all'autorità sanitaria competente.